Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Kingdom Hearts Union Cross. In realtà più che altro vorrei mettere o far chiarezza su quella che è la collocazione narrativa di Kingdom Hearts Union Cross all'interno della timeline della saga di Kingdom Hearts. Allora, Union Cross è un gioco per dispositivi mobili che ormai è uscito da un paio d'anni. In realtà questa è la versione nordamericana, quella che noi troviamo sul nostro store, sullo store, mentre c'è la versione giapponese che è in giro da più tempo oltre ad esserci poi il browser game di Kingdom Hearts Union Cross che è ancora più vecchio ed è precedente a queste versioni. Ma non divagiamo. Allora, Kingdom Hearts Union Cross è a tutti gli effetti un prequel della saga creata da Tetsuya Nomura. Ed in realtà il problema principale che attanaglia i giocatori riguardo questo titolo è il seguente. Cioè che molti, anche magari i veterani della saga, non ci giocano e però hanno paura che alcuni degli impianti narrativi presenti in questo titolo possano giungere nel terzo capitolo. Perché comunque stiamo parlando di un dispositivo mobile basato su attacchi a turni, con un sistema free to play, per questo ci sono anche delle microtransazioni. In realtà nulla di invasivo o che possa creare fastidio. Io infatti ci gioco da moltissimo tempo, anzi da quando è stato reso disponibile per la prima volta sullo store a tutti quanti e in realtà non mi sono trovato mai in difficoltà o altro. Anzi, io non vi ho speso un centesimo. Ma comunque, per chiarire la situazione su quello che è l'impianto narrativo, dobbiamo far riferimento a Kingdom Hearts Backover. Kingdom Hearts Backover non è altro che un film che è presente all'interno della raccolta di Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2.8, che è stata rilasciata su PlayStation 4 qualche tempo fa. E che è facilmente reperibile. Ora, questo film, che dura 49 minuti, lo si trova facilmente anche su YouTube e quindi è facilmente visibile da tutti quanti. Ed in realtà è proprio nella prima parte di quel film che noi abbiamo tutta una serie di elementi narrativi che poi ritroveremo all'interno di Kingdom Hearts 3. E questo lo sappiamo perché? Perché in realtà molti degli elementi che si vedono in quella prima parte vengono accennati nei trailer che abbiamo visto di Kingdom Hearts 3. Anzi, più che nei trailer, nel trailer dove Ade incontra Malefica e Pietro e dove si parla di una fantomatica scatola nera che ne vediamo proprio in questo film. Poi, comunque, il gioco è, come ho già detto, dotato di una modalità, appunto, storia. Modalità storia che, se la connessione ce lo permette, vi farò vedere. Modalità storia che si dipana per tutta una serie di quest sono ben 775 e non sono ancora finite. Ma in realtà, di queste 775 quest, gli elementi narrativi importanti sono davvero centellinati. Cioè, si possono andare sulle dita delle mani. E, comunque, qual è il punto focale del film? Le union. Le union che sono questi clan. Possiamo definire a tutti gli effetti clan. Dove i Kiblai Wilder, cioè i ragazzini, vanno a combattere. E, in queste union, vengono comandati, più che comandati però, meglio dire istruiti, che è più corretto, dai master, delle gilde. Queste gilde sono volpe, orso, lupo, e non lupo, leopardo, e unicorno. Ed, infine, il serpente. Io, ad esempio, come potete vedere a schermo, faccio parte della union Volpi. Ora, questi capi delle union fanno, a loro volta, capo ad un altro soggetto che viene chiamato il mestro dei mestri. Una figura incappucciata, vestita con gli abiti dell'organizzazione 13, che noi non vedremo mai in viso. E che è colui che consegna a questi capi delle union, che vengono chiamati Foretellers, il libro delle profezie. Dove sono descritti tutta una serie di avvenimenti che avverranno in futuro, ovviamente, per questo libro delle profezie. E che porteranno, poi, alla guerra dei Kiblet, come potremmo vedere, poi, in Kingdom Hearts Buried by Sleep, dove una delle location, appunto, il cimitero dei Kiblet, che è, appunto, il luogo dove è avvenuta questa battaglia sanguinaria, dove, praticamente, sono morti la maggior parte dei membri delle union. Ora, in Kingdom Hearts Backover, uno degli elementi focali è, appunto, la figura di questo maestro dei mestri, in quanto, vedremo che, a un certo punto, donerà ad un suo allievo, che non è un capo di queste gilde, ma un altro soggetto, un'altra figura, chiamata Luxu, che è, incappucciato anch'esso, con uno degli abiti dell'organizzazione 13, la storica organizzazione 13, nemica di Kingdom Hearts 2, e che rivedremo anche, a quanto pare, in Kingdom Hearts 3, che va via, alla fine del film, piccolo spoiler, con l'innominata, che è il Kiblet di Xehanort, il grande cattivo della saga di Kingdom Hearts, e, se ricordate bene, questo Kiblet ha un occhio azzurro posizionato su di esso. Questo occhio azzurro, ce n'è svelato, essere del maestro dei mestri, e che, quindi, probabilmente, anzi, certamente, è l'occhio che gli permette di guardare nel futuro, anche perché è lo stesso maestro dei mestri che lo dice e lo rivela a Luxu. Quindi, in realtà, i fatti che sono scritti all'interno del libro non sono altro che le cose viste dal maestro dei mestri. E, infatti, lui è una figura, alquanto sopra le righe, è particolare. Non riusciamo mai a capire quali siano i suoi fini, anzi, spesso e volentieri, sembra manipolare gli altri al suo piacimento. E, in realtà, questo è tutto. Cioè, questi sono gli elementi narrativi importanti alla fine del terzo capitolo. E, come si può ben capire, sono tutti ritrovabili all'interno del film e non c'è affatto bisogno di giocare a questo titolo. E poi, se si vogliono avere informazioni sulla storia che si vive all'interno del titolo in questione, che state vedendo qui, modalità storia, che possiamo trovare nella parte delle quest, cioè, appunto, una parte dedicata alla storia di Union Cross, non si fa altro che vivere parte dei fatti visti all'interno del film dal punto di vista dei membri dell'Eion. Per poi andare avanti e si va l'oltre. In realtà ci sono degli spunti importanti, come ad esempio a un certo punto compaiono Ventus e poi una figura che sembra Marluxia, prima di diventare Marluxia dell'organizzazione 13. Però, anche qui, Nomura ha detto che in Kingdom Hearts 3 ci saranno sicuramente dei riferimenti ai fatti che si vedono qui e sicuramente ai foretellers. Ma, a parte la scatola nera e la questione dell'occhio sull'innominata, non si sa altro. Ed in realtà pure quelle cose, poche cose, la comparsa di Ventus oppure di Marluxia, sono facilmente o visibili su YouTube, perché i filmati delle quest vengono caricate, anche perché all'interno del gioco c'è una modalità teatro che permette di vederli senza alcun problema e quindi sono facilmente registrabili. Oppure, ancora, leggendo una Wikipedia, perché in realtà il materiale è davvero poco. Ad esempio, queste quest sono delle quest che sono uscite da poco e sono ambientate, come potete leggere qui, ad Agrabah, in realtà, ed è un filler. Si vede, in pratica, si combatte contro Jafar e c'è tutta quella parte di Jasmine che si vede nel film Aladdin, insomma, per cui Jafar la vuole sposare, inventa tutta una serie di trucchi per poterlo fare. E quindi, come si ben capisce, non viene portata avanti la questione dei foreteller. Sono veramente poche le quest. Quindi, non bisogna preoccuparsi, non bisogna per forza giocare questo titolo per capirci qualcosa, bisogna sì vedere il film, ma come ho già detto, le parti fondamentali si trovano all'inizio, poi da un certo punto in poi iniziano tutta una serie di discussioni interne alle varie organizzazioni e ai vari leader delle stesse. E quindi il materiale è facilmente recuperabile perché il film si trova anche su YouTube, sottotitolato, senza alcun problema, così com'è appunto nella raccolta. E per quanto riguarda le quest, se proprio siete curiosi, potete leggerlo su Wikipedia. Oppure, se non avete pregiudizi nei confronti dei titoli mobile, basta semplicemente scaricare il gioco ed inziarci a giocare. Io ci gioco da un bel po' in realtà. Ci gioco da 732 giorni, come potete vedere qui. È un gioco free to play e devo dire la verità, non è neppure necessario spendere denaro perché io da 732 giorni che ci gioco non ci ho speso un centesimo. E quindi, è facilmente approcciabile. L'unica limitazione per alcuni potrebbe essere il fatto che il gioco è completamente in lingua inglese, come potete vedere, non è sottotitolato. Però, se riuscite ad andare oltre a questa cosa, se oppure non avete problemi con la lingua anglosassone, non dovreste avere alcun tipo di problema. Per cui, non c'è bisogno di disperarsi. Gli elementi narrativi, questi sono. E quindi, la questione è più facile di quello che sembrava, insomma. In realtà, come lo stesso Nomura ha fatto intendere, molti dei fatti che vediamo qua verranno utilizzati come spunti per un altro per il seguito dopo Kingdom Hearts 3 che chiuderà le vicende di Sora. Ecco, quindi almeno per il momento non ci si deve preoccupare più di tanto. Spero che il video vi sia stato d'aiuto, che le informazioni siano state chiare. Beh, abbiamo trattato i vari elementi, farò anche delle guide riguardanti il gioco per i principianti, perché se qualcuno magari vuole iniziare a giocarci in prossimità dell'uscita del gioco, perché no? È anche di facile approccio, ha un'accessibilità molto grande, soprattutto ora che, come vedete, nello sfondo c'è la collaborazione con Toy Story, perché sarà uno dei mondi presenti in Kingdom Hearts. Questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.